Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale per andare a giocare con un deck con solo comuni. Eh sì, perché un po' di tempo fa abbiamo fatto il deck con solo leggendari e il video vi è piaciuto particolarmente e quindi ho deciso di proporvi anche un deck con solo comuni. A 5.000 like magari andremo a fare il deck con solo rare e così via. Tra l'altro siamo anche quasi a 6.000 coppe, pardon, 6.000 coppe, non credo lo riusciremo a raggiungere oggi però chi lo sa, noi ci proveremo. Vi ricordo ovviamente di supportarmi nel negozio di Clash Royale con il mio codice creatore GGYT, tutto attaccato, mi raccomando ragazzule è davvero fondamentale per supportarmi. Iscrivetevi al canale se ancora non lo aveste fatto, quindi mi raccomando con 3 di essere iscritti se non lo siete iscrivetevi e ovviamente raga appunto 5.000 like per i deck solo con le carte rare. Ho creato questo qui ragazzi, un 2.8 col Gigante Royale perché per quanto riguarda le altre carte d'attacco mi viene in mente giusto i barbari scelti o il barile d'ossa, però sinceramente ho preferito mettere un Gigante Royale. Ero tentato da un arciere pirotecnico perché comunque è parecchio in meta, anche magari uno spiritello elettrico, però vediamo un attimo, possiamo cambiare in tutti i momenti. Vediamo quello che riusciamo a combinare contro André, André, vai, let's go. Allora, spiritello del fuoco per fare subito un po' di danno e far capire immediatamente chi comanda, che invece difende André, grandissimo. Andiamo con una bellissima Tesla a difendere il domatore e lui ha il vantaggio di un Elisir rispetto a me. Ok, però noi abbiamo una Tesla in campo, quindi not bad. Ok, lui va a giocare lo spiritello del ghiaccio, che tecnicamente dovrebbe difendere la Tesla. No, non mi dire che ha un 2.6, potrebbe avere un 2.6, sì, ha un 2.6 proprio palesemente, quindi ci dobbiamo aspettare un cannone, una Fireball, cose mistiche. Allora, metto innanzitutto un Cavaliere qui. E lo sapevo, lo dovevo girare più velocemente il deck, raga, dovevo girare più velocemente il deck, dovevo essere più rapido nel girarlo, raga. Qua ho fatto un errore di ciclaggio, riciclaggio, no, scherzo, del deck, dovevamo essere molto più rapidi, molto, molto, molto più rapidi. Eh, lui ci metterà in difficoltà, eh, perché probabilmente ciclerà più rapidamente lui il domatore rispetto a me la Tesla. Cioè, per esempio, secondo me lui già ha il domatore in mano, giusto per darvi un'idea. Lui dovrebbe già avere il domatore in mano addirittura, perché ha giocato uno spiritello, ha giocato il tronco, eh, ve l'ho detto, ve l'ho detto. Strano che l'ha giocato subito adesso sulla Tesla, noi con dei pipistrelli dovremmo cavarcela, ed effatti è andata così. Allora, ovviamente va sul cannone. Allora, raga, dato che tanto le frecce noi non le useremo per nessun motivo al mondo, perché lui tecnicamente non ha nulla che soffra per le frecce, io direi ovviamente di usarle sempre per andare a mettere one shot il moschettiere. Direi di mettergli un po' di pressione, ma andiamo anche un po' di pipistrelli che vanno sotto torre. Dai, 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 va bene, va bene, qualcosa ce la possiamo inventare, ragazzi. Qualcosa ce la possiamo inventare per metterlo in difficoltà, perché lui ha la scarica, no, lui ha il tronco, scusate, non ha la scarica. Quindi i pipistrelli potenzialmente li potrebbe effettivamente far soffrire. Andiamo di spiritello, ok, così almeno anche lui utilizza un po' di elisir, che stava ciclando sicuramente più rapidamente di me, e infatti eccolo qui di nuovo il domatore, ragazzi. Tesla, giusto in tempo. Spiritello. Mettiamogli pressione col nostro carissimo gigante royal. Ok. Potenzialmente lui lo difende tranquillamente, lo sapevo. E lui, ragazzi, adesso proverà a fare questo. Cioè lui questo proverà a fare. Cicla e gioca al domatore. Cicla, come deve giocare? Cioè lui sta facendo ovviamente quello che deve fare. Io cercherò di fare del mio meglio. No, non far fuori i pipistrelli. Uno ne ha fatto fuori uno. Ne ha fatto uno fuori, solo uno. A noi va bene. Tesla, Tesla, Tesla. Fireball perfetta, ragazzi. Fireball perfetta per lui. Fireball perfetta. Ci costringe a usare il cavaliere. Però lui ha usato più elisir per attaccare. Non è da sottovalutare sta roba. Non è da sottovalutare. Stiamo con una bella scarichetta. Arriva sui pipistrelli. Quindi arrivano dei danni da parte del nostro gigante royal. Che non sono anche questi da sottovalutare. Mi sa che il domatore una hit la dà. No, che è meno male. Cavaliere. Mamma mia, ragazzi. Non mi dire che lui inizia a far danno con la Fireball addirittura. Lui inizia a far danno con la Fireball addirittura, raga. Ma non ci credo. Come mai? Non me l'aspettavo, sinceramente, che... Eh, già sta provando con la Fireball, raga. Però una hit è il nostro gigante. Lui, se gioca la Fireball, però... Cioè, vi spiego un attino quello che sta accadendo. Lui, giocando la Fireball, non costringe noi ad usare l'elisir. Ok? Cioè, finché lui gioca il domatore, noi siamo costretti a giocare la Tesla. Quindi a spendere dell'elisir per difenderci. Se lui gioca la Fireball, io lo so che tanto non mi ci posso difendere dalla Fireball. Quindi io non giocherò mai nulla per difendermi dalla sua Fireball. Di conseguenza... Io prendo e vado all'attacco così. Eh, adesso addirittura l'ha usata per difendersi la Fireball, ragazzi. Non lo so, secondo me lui poteva continuare con il domatore e poteva cercare di difendersi meglio. Ha deciso di provare ad andare con la Fireball, ma nel momento in cui ha deciso di andare con la Fireball, ha perso, ragazzi. Perché è vero che col domatore non lo stavo facendo arrivare a torre, però la Fireball a me non costringe ad usare l'elisir per difendermici, perché non puoi fermare una Fireball. Vai, 10.000 di oro che chiaramente ci torneranno utili. E oh, regà. Vai, la prima l'abbiamo vinta. La prima l'abbiamo vinta incredibilmente. Vediamo, 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 vediamo. Però è palesemente un deck che... Eh, vabbè, niente. Però qua ci dice pure male. Lui subito col domatore... Eh, Rip ha fatto fuori anche gli scheletrini. Raga, io ho provato a giocare tutto quello che avevo. Eh, regà. Questi sono gli start che non puoi gestire. Cioè, noi non potevamo fare assolutamente nulla per fermare quel domatore. Non avevamo niente. Eh, lui c'è il mini pecca. Aia. Questo potrebbe essere un bel problema. Questo potrebbe essere un bel problema. Allora, cicliamo, cicliamo, cicliamo. Ciclia... Eh, no, ragazzi, non cicliamo. Che cicliamo? Non cicliamo niente, non cicliamo. Eh... Purtroppo, raga, sta partita è iniziata così. È iniziata così, quindi noi abbiamo usato subito tanto elisir per contrattaccare, ma... Eh, vabbè, vedi. Adesso sì. Adesso so che al domatore, in un modo o nell'altro, ci difendiamo. Però quanto odio... Quanto odio gli start delle partite così, ragazzi. Che tu non hai proprio quella carta per counterare il suo attacco. Infatti, tante volte è buono provare ad attaccare subito come ha fatto lui a giocare il domatore. Perché magari, appunto, il tuo avversario non ha le carte girate bene e non riesce a counterarti. Il criccio. Eh, ragazzi, questo ha tutte carte bene o male pesanti. Potrebbe essere un gran bel problema per noi. Io devo giocare già la Tesla. No, regà, ho fatto una pollata, ma di quelle proprio, ragazzi. Ma di quelle proprio astronomiche. Ho giocato la Tesla accanto al mini pecca. Però volevo cercare di fermare tutte e due le lane. Eh, raga, lui ha... In realtà, a mio avviso, non è buono il suo deck. Cioè, principe, mini pecca, moschettiere, arciere, pirotecnico. Cioè, tutte carte che... E non male sono simili. Cioè, lui ha sprecato quattro slot per delle carte simili tra di loro. Non lo so, raga, non mi fa impazzire. Però ovviamente noi col nostro di deck... Cioè, vedi, non ha neanche strutture. Cioè, in realtà noi andiamo abbastanza bene con i nostri danni a torre. Il problema, ragazzi, poi è nel momento in cui prende e le gioca tutte insieme. Lì, sì, lì è problematico. No, 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 no. Però steppollate non le devo fare. Però steppollate non le posso fare. Non mi posso giocare la partita per steppollate. Le frecce, raga, ho failato le frecce. Non so se ci avete fatto caso, ma... Gran Cavaliere. Anche il Gran Cavaliere. Principe, Gran Cavaliere, mini pecca. Ma che è? Ma che è, oh! Provo a difendermi in qualche modo, ragazzi, ma... Capite quanto possa essere difficile... in questa situazione. Vabbè. Allora, in realtà... In realtà... Poteva tranquillamente andare peggio. Ma proprio... In scioltezza poteva andare peggio, ragazzi. Cioè, ma proprio... Forse qui ho sbagliato a giocare un gigante... Royal lì, così. Forse potrei aver sbagliato. A giocare... Eh, sì, 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 ragazzi. Mamma mia. Fermate quel principe, per favore. No, una hit l'ha tirata. Una hit l'ha tirata. Però, ragazzi... No, il suo deck non è assolutamente... Non è assolutamente competitivo, ragazzi, il suo deck. Con un deck normale, questo qui, raga, l'avevamo asfaltato proprio a mani basse. Allora, in realtà... Io non ho... Non vedo grossi punti critici a questo deck. Il problema è che hai soltanto come modalità d'attacco il gigante Royal. Infatti, la cosa buona del fatto che pesa così poco il deck è che tu devi ciclare il gigante Royal a più non posso. Ora, noi questa partita l'abbiamo anche persa per colpa del... Della sua mossa iniziale del domatore, eh. Ricordiamo che la mossa... La partita di prima è stata anche un pochettino... Stata rovinata così. No, raga, non voglio usare la... La cosa. La scarica. Me la tengo. Me la tengo, ragazzi. Me la tengo. Perché io adesso voglio provare a ciclare il gigante e giocarlo molto tranquillamente. Allora, eh, questo è un problema. Cioè, lui è... Lui sta ciclando il... Quindi no, quindi ha già ciclato anche il coso. Ha già ciclato tutto, ragazzi, lui. Ha già ciclato anche la torre inferno. È inutile. Ok, quindi no. Non posso puntare sull'arginare la... La torre infernale ciclando il mazzo. Perché il suo addirittura è più rapido del mio. Cioè, quindi... Proprio... Proprio no. Ok, quindi dobbiamo usare la scarica. E va bene. Ci può stare. Ok. Io a questo punto partirei da dietro col gigante royal. Guardate un po' che vi dico. Tentiamo. Tentiamo la partenza da dietro. Tentiamo la partenza da dietro. Fermiamo con lo spiritello. Addirittura. Addirittura, ragazzi. Mossa ambigua da parte sua, ma mi sa che ha già ciclato... Ne ha già ciclata un'altra. Non ci credo. Questo, ragazzi, a parte queste due hit che gli abbiamo appena dato, non ci farà toccare la torre. Filatevi di me. Ricordatevi di queste parole che vi ho appena detto. Non ci farà toccare la torre. Cicla la torre inferno... Non ho capito perché... Vabbè, aveva finito l'elisir, probabilmente. A furia di ciclare avrà finito l'elisir. Però lui aveva già ciclato l'inferno. Quindi adesso con l'elisir per due... Con l'elisir per due, ragazzi, lui potrebbe ciclare la torre inferno ancora più velocemente e la potrebbe giocare, a differenza di adesso che non l'ha potuta giocare. Allora, io in realtà posso stare anche relativamente tranquillo per tutta sta roba che sta spammando. Perché abbiamo appunto la Tesla. Noi abbiamo appunto la Tesla. Addirittura noi abbiamo già ciclato anche un altro Gigante Royale. Quindi a noi in questo momento può anche andare bene così. Noi in questo momento, ragazzi, siamo molto soddisfatti di quello che sta succedendo. Qui le frecce, ragazzi, sono d'obbligo. Qui le frecce, ragazzi, erano d'obbligo. Ho fatto fuori due carte, praticamente, con delle frecce. E qui ci siamo potuti difendere molto tranquillamente. No, non ci credo, guardate que... No, ma non ci credo. No, qua, però, è pure sfiga, oh. Non avrei preso tutte queste hit, ragazzi. Neanche dalla Valkyria. Era rimasto in vita uno scheletrino che non volevo lasciare andare. Ma io non ho parole. Non ho parole, ragazzi. Che sfiga, però. Questa non ci voleva. Questa non ci voleva. Ok. Eh, ragazzi, io lo rifaccio. Cioè, ma anche in scioltezza. Anche perché tanto per il barile goblin c'ho anche lo spiritello, eh. Fino ad adesso sono voluto andare con le frecce per stare un po' più tranquillo. Però io posso tranquillamente utilizzare anche lo spiritello. Ok. Ok. Me l'ha fatto fuori. Bravo. GG, regà. GG a lui. Non la conoscio neanche una mossa del genere. Fireball per fermare lo spiritello del fuoco. Sapete qual è stato il problema, però, di aver fatto questa mossa per lui? Ha usato troppo elisir. Questa mossa del giocare la fireball con il barile goblin. Per carità, ecco, di nuovo l'ha fatto. Gli ha permesso di farmi dei danni importanti. Però ha sprecato troppo elisir, ragazzi. Bella mossa, però. Bella mossa. Neanche la conoscevo addirittura come mossa. GG, però sprechi un sacco di elisir. Spreghi un sacco di elisir e non è detto che ne valga la pena. Perché poi non è che mi abbia fatto così tanto danno. Oh, regà, ma sapete che non è manco andata così male con sto deck? Cioè, se sai ciclare bene il Gigante Royale, alla fine hai sia le frecce che la scarica, che sono probabilmente tra i due migliori incantesimi per supportare il Gigante Royale. Hai carte molto fastidiose come possono essere lo spiritello del fuoco e i pipistrelli, che comunque spesso e volentieri ti costringono ad utilizzare più elisir di quanto costino per fermarle. E poi c'è la tesla, che attualmente è una delle difese più versatili che ci siano in game. Quindi, secondo me, può workare decentemente. Oggi abbiamo fatto due vittorie e una sconfitta viziata, però, da quell'inizio un po' purtroppo molesto, da parte del domatore avversario. Quindi, devo dire, mi ritengo soddisfatto. Detto questo, ragazzi, vi ricordo, codice creatore GGYT, tutto attaccato nello shop di Clash Royale per supportarmi. Lasciando un bel mi piace, iscrivetevi al canale se ancora sei fatto, e no, soprattutto i like, raga, 5000 like, ci andiamo a fare il deck completamente collerare, magari consigliatemi qualche combo sotto nei commenti. Per me è tutto, ci troviamo domani con un prossimo video qui sul mio canale. Ciao ragazzi!